Ciao, sono Paolo Balci e vi presento questo MacLewis Mac4 873 Garage. Un camper molto comodo, ben rifinito, per le due persone con i letti singoli e il letto basculante. Cliccate sulla vostra destra in alto, si aprirà la scheda del nostro sito dove ci sono tutte le caratteristiche di questo camper. Dimensioni optional e compresi prezzo di listino per equipararci ai nostri colleghi, ma soprattutto il prezzo chiave in mano che vi permetterà chiaramente di valutare l'acquisto di questo bel camper. Andiamo a vedere la parte, il garage. Qui dentro ci sono tutti i kit dei letti che in caso andate in cinque potete usarli, altrimenti li lasciate a casa. Qui il garage, guardate com'è grande, qui sotto le dimensioni, quindi per capire bene quello che ci volete collocare all'interno. Andiamo al suo interno, una bella porta d'accesso, un porta immondizie, finestra, porta zanzariera, maniglia per poter salire, quindi facilmente si accede. Qua la zona giorno, con questo tavolo che si muove, permette tranquillamente di stare uno, due, tre, quattro, cinque, sei persone a fare due chiacchiere. Questo camper è un camper da cinque, quindi la possibilità di abbassare questo tavolo semplicemente premendo il pulsante, si abbassa e diventa un bel singolo. Pensate che un singolo con una larghezza delle spalle, questa parte sinistra, quindi è veramente comodo, anche se la parte dei piedi è leggermente più stretta. Guardate la finitura, finestra apribile, pensile sinistro e pensile destro. Qui, guardate, ecco, una bella finitura per quanto riguarda la tappezzeria, i mobili, un bel lavello, un piano di appoggio in questa soluzione e poi questo, per che cosa? Per la macchinetta del caffè. Poi, un bel pensile, tre fuochi, una parete attrezzata per poterci mettere tante cosettine, vedete quanti ganci ci sono, poi una bella cassettiera e un altro contenitore sotto. Qua, un altro spazio con questo bel cestello sottostante. Qua, sopra il frigorifero, un altro grande contenitore, perché le pentole servono sempre per fare la pasta, noi. Poi, poi il congelatore e il frigorifero. La porta del bagno divide la parte servizi dalla zona anteriore, ma c'è anche quest'altra parte che divide ulteriormente la zona notte dalla parte servizi alla parte giorno o l'altro letto. Quindi, qua si sale, c'è un bel contenitore nello scalino, qua lo sportello laterale, un bel altro contenitore e qua l'armadio. Da sopra c'è l'accesso all'armadio, quindi guardate com'è veramente grande. E di qua, altrettanto, l'accesso laterale e di sopra. Poi, i letti. Questo è un letto comodo a uno, due persone. Come avete visto, c'è anche la possibilità del terzo. Due grandissime finestre, destra e sinistra, e un bello blocco, quindi molto luminoso. Quindi questo camper è un comodissimo, due persone, e quindi può essere abitabile anche per cinque, con le varie soluzioni. Una, due, tre, un letto basculante quattro e il letto sotto cinque, oppure una, due, due sopra, il letto basculante non sotto. Quindi ha tanta variabilità di abitabilità per dormire. La doccia, molto semplice e rapida, con il suo funghetto, quindi l'aria sale su, mi muovo bene, ma è anche facile per poter lavare un bambino, quindi siete tranquilli di non schizzare. L'area bagno, ecco, immaginatevi, allora questo è il vate, ma immaginatevi anche dei bambini, quindi in questa zona è veramente tranquillo. Poi, avendo separate le zone, potete far tranquillamente dormire le persone dietro, separate a coloro che vogliono stare la sera, un po' più tardi, o la mattina a far colazione presto, quindi ci sono ambienti ben divisi. Poi, un bel lavello, un bel sotto, lavello come contenitore, come altro contenitore sopra e la sua finestra. Il letto basculante, che certo occupa gran parte della porta, però è preferibile, a mio avviso, avere un bel letto comodo e, come vedete, facile alla via di fuga all'uscita. Poi, per salire con una scaletta nella parte posteriore del letto, c'è la protezione davanti e di dietro per i bambini. Il letto basculante, eccolo qua, quindi una bella larghezza, io sono un metro e ottanta comodo, qua c'è il panno che rende un maggior isolamento, ma anche un migliore isolamento acustico. Bella finestra apribile. Quindi, se vi è piaciuto, venitela a vedere, perché è veramente molto bello e funzionale, dalle due alle cinque persone e chiedete la nostra consulenza, perché potrete meglio acquistare il camper per le vostre vacanze, agli ottimi prezzi e servizi caravambacci. Ciao!